La batteria è estraibile Cannestirium Pro con coni da 48 cm Nella versione black abbiamo l'inserimento del carbonio Una bindella e un gruppo scatto in carbonio Che permettono di ridurre il peso di circa 140 grammi Peso che può essere inserito sotto l'asta Per trovare il bilanciamento dell'arma perfetto E il setup che meglio si addice al tiratore Il nuovo Timberetta sarà dotato di questo fucile Nella maggior parte dei casi Vedremo Silvana Stanco che già spara con questo fucile E per quanto riguarda il team internazionale Fatima Galvez Che nella prima uscita con la nazionale spagnola Nella gara dell'Andalusia Ha ottenuto un ottimo risultato Un 122 su 125 Rimanendo in ambito italiano Un grandissimo tiratore di eccellenza Paolo Rino Cavarzan Nella prima uscita ha vinto la gara Con un punteggio di 50 su 50 Potete trovarlo nelle migliori armerie Oppure in prova gratuita Durante gli eventi della Gold Cup O del circuito Excellence Grazie della domanda Allora Grazie a tutti